Amore, 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 amore. Allora tu sei il nipote del vecchio papà, come ti chiamo di nome? Marco. Ah Marco, e questo giovanotto invece il tuo amico ti mette l'olio. E questo è solo miele, questa schiuma è normale che faccia questa schiuma. E tu invece come ti chiami? Dennis. Dennis. Oh, guardate che bella oliata che c'è. Allora la cosa di sputarsi le mani come è? Praticamente quando i ragazzini e i bambini volevano comprare i samburricchi, i generatori dicevano no, no, non lo compriamo perché si sputa le mani. Ah, eh, difatti. Perché non avevano la possibilità. Ho immaginato, certo, certo. Come si, come si, come si, come si! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.